Mario Conti è mio marito innanzitutto, più importante ancora forse è un grandissimo alpinista che ha girato mezzo mondo come professione per spedizioni, per il gruppo Rani, ha fatto di quelle cose mostruose, pensare solo 54 anni di professione di guida alpina, ma interrotta. A quasi 10 giorni dalla scomparsa di Mario Conti a Mossini tutto è fermo al 14 novembre. Giornate in interrotte di ricerche alla luce del sole durante il giorno, delle foto elettriche nelle ore notturne. Ricerche che vanno avanti. Centinaia di persone al lavoro senza battuta d'arresto, operatori specializzati tra vigili del fuoco, soccorso alpino, guardia di finanza, protezione civile, croce rossa e forze dell'ordine. Tantissimi volontari, alpinisti, personale del soccorso fluviale, poi gli accurati sorvoli degli elicotteri e della squadra droni con sofisticati strumenti che permettono il rilevamento millimetrico attraverso la temperatura corporea anche a distanze elevate. Ma niente da fare. Ritorniamo al 14. Proviamo a raccontare quella parte di quella giornata. Mattinata del martedì siamo andati al Fiat perché dovevamo sistemare un problema di gomme. Gomme della neve che bisognava mettere eccetera. Io con la mia macchina, lui con la sua, poi lui è rientrato tranquillamente a casa. Io mi sono fermata in farmacia a fare due cose. Sono rientrata, lui aveva già mangiato qualcosina, poi era andato da Davide a trovarlo così. Dopodiché ho mangiato qualcosa, mi ha fatto compagnia. Verso le due e due e mezzo l'ho accompagnato fuori, ho messo le sue scarpette, si è preso il suo gilet senza niente perché per andare qua in zona, è una camminata che fa due o tre volte alla settimana minimo, sufficientemente attraversare la strada, prendere sentiere e salire. Dopodiché, verso le quattro e mezzo o cinque, quando rinzavano l'Italia, il tempo era troppo, il tempo che era stato fuori, mi sono mossa con la macchina, sono andata a cercarlo, un po' sul Ronchi, un po' verso Triangio, verso Ligari. Poi quando ho visto che è diventato buio, ho sentito Davide che era tra l'altro qua sotto e gli ho detto Davide succede questo, chiamiamo 112 e così è fatto. Ci stiamo spaccando la testa, non sappiamo cosa pensare, non abbiamo un granello di indizio, non abbiamo niente. Parliamo di una persona di 79 anni ma che in realtà ha una fisicità pienamente atletica, c'è anche la seria possibilità, più che una possibilità, che si sia mosso anche camminando. Potrebbe essere sì, perché comunque io ho partecipato alle ricerche fin dal primo giorno, appunto alle 5 e mezza sono partito a fare il giro che faceva di solito lui appunto, mi sono incrociato che vi gira il fuoco, ho continuato insieme a loro, posso dire che la zona qua è stata fatta veramente bene, quindi a questo punto potrebbe essere, si potrebbe anche valutare il discorso che si è allontanato. Non saprei però, come fisicamente potrebbe essere arrivato tranquillamente anche a colico e oltre, ho preso un treno, se deve essere andato a piedi, non ho nessuna idea sinceramente. Può essere successo anche questo, magari se è disorientato, vuoi la fatica, senza mangiare, ok, davvero può trovarlo, poi lui cammina, cammina, più di 20 anni fa abitava a Mandello, magari così, magari ha chiesto un passaggio o magari gliel'hanno dato persone che erano ignare del fatto. Mario prende medicina? Ma le uniche medicine che prende sono dei farmaci inerenti al cuore, perché ha subito un intervento importante al cuore 15 anni fa, però non ha mai più avuto problemi. Se vedete una persona che anche assomiglia di segnalarlo e far presente alle forze dell'ordine, eventualmente anche fermarlo e chiamarlo anche per nome, magari Mario, e parlare di montagna, che comunque su quell'ambito lì lui è sempre sul pezzo e è sempre informato. Chiunque possa averlo visto, le descrizioni le abbiamo date, le foto ci sono, fateci sapere qualcosa perché è pazzesco quello che sta succedendo.